Nell'agosto del 2014 Matteo Renzi venne a Gela per dire che nell'arco di pochi mesi in Italia dovevano chiudere 5 raffinerie e Gela faceva parte di questo lotto. In realtà dopo due anni e mezzo ha chiuso solo Gela. Come mai? No, io questo non lo so e non riesco a commentarlo, le affermazioni del nostro Premier. Oggi Gela non ha chiuso. Oggi Gela rilancia. Come abbiamo visto che una raffineria che perde ogni anno importanti soldi, oggi in realtà si è trovato il modo di poter rilanciare questa attività. Quindi non la guardiamo con qualcosa di chiusura, guardiamolo verso un futuro, un futuro che è sempre più green, un futuro che non ha solo la raffineria ma anche altri progetti molto importanti per il territorio. Il 6 novembre del 2014 a Roma lei c'era quando si firmò quel protocollo? Non c'era. Vabbè, però conosci i termini di questo protocollo in maniera pedissegua, no? Ne ho copie in tutte le stanze della mia casa. Ecco, quello che le voglio chiedere, però non è se lo conosce bene o no il protocollo, è che allora i nostri rappresentanti locali, politici, che firmarono quell'accordo, ci dissero in pompa magna che non si sarebbe perso un solo posto di lavoro. Siamo nel giugno del 2016 e qui c'è gente che si arrampica sui tralicci perché non ha più il lavoro, quel lavoro. Io non voglio commentare, entrare nell'ambito delle situazioni che sono legate all'edito agli appaltatori. Noi qui abbiamo, come dicevo in precedenza, rispettato gli impegni che erano scritti su quel protocollo. Il protocollo indicava 900 risorse dell'indotto che avrebbe voluto lavorare nel 2015 e ne hanno lavorato nel 1062. E' chiaro che se noi guardiamo a 20 anni fa, l'indotto aveva una dimensione diversa. Guardiamo, ribadisco, al presente e al futuro. In questi momenti, come sostegno per quelle risorse che non riescono oggi a trovare un'occupazione, ci sono degli ammortizzatori sociali, dei sostegni al reddito. E' chiaro, ribadisco, che qui comunque non dimentichiamo che stanno lavorando 1250 persone. Nella ottica strategica mondiale di Eni, Gela cosa rappresenta? E' un punto molto importante, un paricentro di attività. Avete visto, non abbiamo parlato soltanto di attività industriale, ma abbiamo parlato anche di attività di formazione, abbiamo parlato di attività di tattiche. Abbiamo progetti importanti di ricerca e collaborazione con l'università, per cui noi crediamo in Gela. Noi siamo convinti che questo percorso potrà portare addirittura più lavoro a Gela, perché non sarà più, come dire, un lavoro magari focalizzato solo su un'industria o solo su una tipologia di attività. Ma domani avremo un territorio diverso, con più aziende, e poi fatemi dire, no? Con aziende più moderne, che rispondono di più a quelle che sono le esigenze del mondo contemporaneo. Cioè, oggi, avere una green refinery è ben diverso rispetto ad avere una raffineria tradizionale, anche in termini di prospettiva. Ci saranno ancora altri 18 mesi, cioè da quando entrerà in avvio la green refinery, che bisognerà tirare la cinghia e stringere denti? Io direi proprio di no, perché già oggi ci sono centinaia di lavoratori delle imprese che lavorano all'interno del sito. Altri lavoratori verranno ovviamente chiamati per lavorare nei prossimi mesi, e quindi, come dire, sono convinto che non nascondo sicuramente una certa sofferenza da parte del territorio, ma tutti i progetti di cambiamento portano delle sofferenze. Però noi stiamo cercando di gestire questa trasformazione, cercando di salvaguardare al massimo proprio le maestranze e proprio, come dire, tutte le attività imprenditoriali che a Gela ci sono, alcune delle quali di grandissimo valore. Grazie.